Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso e amatissimo Sant'Alfonso! Che tanto hai operato per assicurare agli uomini i frutti della redenzione! Vedi le necessità delle nostre anime soccorrici! Per l'intercessione di cui godi presso Gesù e Maria! Ottienici il perdono di tutte le nostre colpe! E la forza di resistere alle seduzioni del male! Ottienici quell'ardente amore verso Gesù e Maria! Di cui il tuo cuore fu sempre così infiammato! Aiutaci a conformare sempre la nostra vita alla Divina Volontà! E impetraci dal Signore la Santa Perseveranza nella preghiera! E nel servizio di Dio e dei fratelli! Accompagnaci con la tua protezione nelle prove della vita! Fino a quando non ci vedrà insieme a te! In Paradiso, a lodare per sempre il tuo e nostro Signore! Amen! Padre nostro che sei nei cieli! Si è santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia! Il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne! E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio! Prega per noi peccatori! Adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! Sant'Alfonso Maria degli Guoi! Pregate per noi!